5 anni fa Lenovo acquisiva la divisione PCDBM con il prestigioso marchio ThinkPad la cui storia inizia nel 1984 e le immagini che state vedendo sono di per sé significative. ThinkPad è per molti sinonimo di robustezza e innovazione e per certi versi alcune idee di qualche anno fa sono ancora attualissime. Oggi il top di gamma T410S integra un display touchscreen la cui utilità in ambito professionale è tutta da dimostrare mentre i nuovi ThinkPad Edge sono dedicati a chi è più attento al prezzo e al design. In occasione di un evento organizzato a Londra Lenovo promette novità per la clientela consumer con nuovi portatili Thin and Light e Netbook ma in attesa di questi nuovi prodotti sono stati mostrati i nuovi All-in-One. Per Lenovo gli All-in-One sono un importante segmento in cui crescere e l'attuale offerta si concretizza con il modello ThinkCenter a 310 con display da 21,5 pollici Full HD dal design decisamente particolare. Tutte le componenti hardware tra cui processori Intel i3 e i5 sono integrate nella base al fine di rendere la parte superiore più sottile possibile. Per questa particolare implementazione pare non essere prevista la funzionalità touchscreen. Il ThinkCenter B500 è dedicato all'entertainment domestico e nelle idee di Lenovo anche al gaming e intende offrire alte prestazioni. Sono disponibili configurazioni con Intel Core i7 mentre al momento non abbiamo dati sulla GPU e su altre componenti. ThinkCenter B500 è dotato di display multitouch da 23 pollici Full HD e di un remote control che dovrebbe essere utilizzato anche per alcune azioni di gioco come avviene per alcune console ma purtroppo non abbiamo provato questa funzionalità. Lenovo promette per i prossimi giorni ulteriori dettagli relativi a modelli, prezzi e disponibilità. Pubblicheremo un approfondimento sulle pagine di hardware upgrade. Grazie a tutti.